E salve a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video su Dark Deception Quindi ragazzi, andremo a farci il secondo capitolo di questa piccola bambina Malandrina E' un mostro puro, mamma mia Quindi andiamo avanti ragazzi Ok, capitolo 8 pezzi da prendere, sei pronto per un altro incubo? Boom Ok, siamo pronti Chissà cosa ci nasconde questa strega qua Andiamo qui dentro Malak ha bloccato l'entrata Non penso che tu gli piaci molto Vai all'altare della reno, posso bloccare il potere per aumentare la tua velocità per un breve periodo di tempo Cos'è? Ah Speed boss, velocità 870, tempo 6 secondi, contro la rovescia 8 e mezzo Ok Quindi abbiamo Usa consaggezze, non ringraziamo, ne parleremo dopo Eh sì, perché vuoi sempre qualcosa tu, eh Your tablet, io uso il Q per attivare il corrente Ah, quindi potrei Ah, devo usare il Q per correre Oh, tanta roba Ok ragazzi, abbiamo sbloccato un nuovo potere, c'è una nuova abilità Elementare evil Non ti mancano mai i tuoi giorni di scuola, dopo tutto era l'ultima volta che eri innocente C'è qua me la dovevo proprio correre allora Un'altra barriera Un'altra barriera Sai cosa fare Ok Spettiamo tutto Ok, qua è il tablet Mamma mia, cos'è? Oh, no amico, sono così eccitata, benvenuto Ma quanto è brutta Ho sentito che avremmo avuto un nuovo studente Quindi ho fatto questa piccola festa di benvenuto per te È molto bello avere qualcuno di nuovo con cui giocare Non dirlo agli altri Ma sono state un po' le nostre dirigenti Ma tu riferirai le cose qui intorno, vero? Puoi condividere tutto con me Tutti i tuoi segreti, tutti i tuoi sbagli Tutti i tuoi dolore E questo è che sono i miei migliori amici, giusto? Mamma mia, ma sei proprio brutta Sembra che la scuola... ah sì, ciao Ok, andiamoci da parte Via, let's go Sì, sì, rimane lì dove sei No, spero che questa... Mamma mia Speriamo che questa qua non mi esalta l'improvviso addosso Ma dico io, no? È il creatore di questo gioco Come hanno fatto a pensare a una cosa del genere? Sono uscito a dormire di notte? Quando ho sentito una voce Oh, mamma mia Oh, mamma mia Mamma mia Però per o male lei parla Quindi mi fa un po' triangolizzare Rispetto alle scine E' un po' più simpatica Rispetto alle scine Allora la musica no E' un po' più simpatica E' un po' più simpatica E' un po' più simpatica Ok, ragazzi Non stiamo andando male Rispetto all'hotel La scimietta Oh, mamma mia Oh, mamma mia Corri Corri Corri, 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 Corri Andiamo verso di qua, va Mamma mia Ma qua siamo ancora 195 65 Oh, mamma mia Oh, mamma mia Che brutta Sei bruttissima Perché non Si poteva aprire Ah, mamma mia Quanta Sei brutta Piccola Ma non ho preso Quel cristallo Non ci credo Parla, parla Non ci credo Mamma mia Mamma mia Se è vicino alla voce Via, via, via Via, via, via Mamma mia Dove cavolo devo andare Se è qui è chiuso Non ho aperto Oh, mio Dio È chiuso Oh, mamma mia Oh, mamma mia Oh, mamma mia È lì Piccola bambina cattiva Lasciami un bacio Via A supervelocità Oh, non si può aprire Oh, sto prendendo un po' di coraggio Però rispetto Rispetto alle scimiette Questa qua è più tranquilla Ok, ha sboccato Che cavolo è questo? Mamma mia Mamma mia Diavolo in persona Porca miseria Mamma mia Mamma mia ragazzi Io sono pronto Voi? Siete pronti? Quindi 3, 2, 1 Via È preso tutti Bello Tanto è che non giocavo Con qualcuno così a lungo Ma non posso più giocare con te E quindi Ottimo Sì Cosa so Veramente fare Addirittura È chiuso Ok, diamoci una mossa Che creativa Sono le vittime La scuola è diventata La sua dollhouse Oh, mamma mia Ce ne sono i bambini Intrappolati Oh, rimane dove sei Piccola Ma mamma mia Se fa paura Ragazzi È terrificante Pure questa Ci manda un cavolo Questa qua Oh, mamma mia È qui Che cazzo è Lei Ma che cavolo è Oh, mamma mia Questa qua si deve trasportare Che cavolo ha Via, via, via Ok, dai ragazzi 94 Ok, siamo di nuovo qua Oh, mamma mia Oh, mio Dio Allora, ragazzi Sto continuando Dall'ultimo Checkpoint Quindi Anche se non Sbloccono mai Poi mai Gradoi Se non mi interessa Ma ti continuano così Quindi Proviamo A vincere Questo episodio A vaffanché Noo Da, ma è possibile Noo 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 Ma ragazzi Non devo perdere Manco solamente una vita Manca pochi cristalli Dai Solo tre Dai Solo tre Non devo perdere Fai brava Piccola Demoniaca Ok, uno Dove sono andare via 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 dove cavolo devo andare qui su tutto dai 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 ok sto tornando indietro oh ce l'ha fatta grazie al cielo oh esci che devo fare ti do tu non vuoi essere mio amico ora sei nei guai hai fatto arraggiare anche papino che papino fine della strada mortale che cavolo è questo sì due no dai non ci credo oh ce l'ha fatta non ho più poteri qua la pazza grida lì oh mamma mia guardiamoli devo andare ma ragazzi mi sono perso mamma mia cosa è sto rumore ma si può sapere dove si va tanta misteriosa sei l'istante della morte adesso oh mamma mia niente ragazzi ci rinuncio proverò a riposarmi un po' la testolina il cuore perché guarda non ne posso più purtroppo sto perdendo ho perso tante volte non riesco più ad andare avanti quindi ragazzi fatemi sapere nei commenti in che modo posso scappare da questa maledetta scuola quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao